guardiamoci questo qua mi dimentico quando fai partito ah ok schippa al minuto accato uno lo cerco ci sono vai incontro fai roma fai 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 Sì ma lei sta pure trollando però capito se già lei la tipa che vabbè boh che va così in giro intervistare la gente random no si si come riesci a tenere la faccia insieme questa si hai ragione si si no no non lo resta giù non lo resta giù non lo resta giù